Prima di iniziare a leggere qualcosa dobbiamo concentrarci sul nostro mindset, cioè dobbiamo predisporci proprio mentalmente ad una lettura, che non è una semplice lettura a mente, ma è una lettura ad alta voce. Se noi leggiamo ad alta voce, per chi stiamo leggendo? Per? Altri. Per noi? Per gli altri, giusto, per gli altri. Perché in realtà stiamo leggendo anche per noi, perché comunque è un piacere leggere ad alta voce e deve esserlo anche per chi vuole imparare a diventare un narratore di audiolibri. Automaticamente, però, nel momento in cui decidiamo di leggere un libro ad alta voce, lo leggiamo per noi anche, ma soprattutto se lo leggiamo ad alta voce, lo leggiamo per gli altri. Quindi il mindset deve essere, io, in il tuo caso Giulia, io Giulia sto leggendo per qualcun altro, scegliamo il pubblico. Sì. A chi ci stiamo rivolgendo? Scegli tu. Ragazzi. Allora, dove stiamo leggendo? Stiamo facendo un reading in una libreria? Vogliamo stare da Feltrinelli? Sì. Alla presentazione di un libro siamo? Allora, siamo da Feltrinelli o da Mondatori, siamo in quelle salette in cui c'è l'autore del libro, c'è un moderatore e poi c'è qualcuno che legge. In questo caso sei tu che sei la lettrice. Ok. D'accordo. Ora, nel momento in cui tu leggi, sicuramente starai ad un microfono, perché comunque c'è un po' di gente. Non è una sala molto affollata, sono giusto, facciamo una ventina di persone. Ah, io ne ho 15 però, sì. Vabbè, facciamo una ventina, poi comunque calcola che c'è un po' di brusio, un po' di rugore di fondo, perché comunque siamo in una libreria dove c'è anche altra gente, qua e là. E quindi dobbiamo già entrare nel mindset che questa lettura deve essere particolarmente incisiva e dobbiamo stare attenti noi a non farci distrarre da quello che ci circonda. Questo in un reading live con altre persone. Se registriamo una demo o registriamo il brano a casa, tutto questo ambaradana non c'è, però ci deve essere comunque il mindset. Ok. Il mindset deve essere innanzitutto liberi, rendersi un bel respiro, anche chiudere gli occhi all'inizio e concentrarsi, perché da questo momento in poi noi smettiamo di essere noi stessi e diventiamo il lettore, il narratore, colui che racconta il libro. Quindi è anche un'operazione un po', lasciami passare questo termine, un po' spirituale, nel senso che da che siamo semplicemente delle persone, dei comuni, diventiamo un po' dei, facciamo da tramite tra le persone e le emozioni, le vibrazioni che attraverso la nostra voce riusciremo a restituire di questo libro, che non è stato scritto, non è stato scritto per essere letto ad alta voce, ma è stato scritto per essere letto a mente. Quindi come dico spesso, noi poi i narratori di audiolibri siamo dei traditori, perché cosa facciamo? Tradiamo il patto narrativo, è che io scrittore ti propongo a te lettore un libro che ho scritto per essere letto, a mente in cui ti racconto questo mondo meraviglioso, che può essere vero, finto, biografico, oppure inventato, e tu lettore, tu accetti che io abbia scritto questa cosa per immergerti in questo mondo. Al tempo stesso, l'altra parte che firma il patto narrativo è il lettore, e dice, ciao scrittore, ok, io accetto di comprare questo tuo libro, perché accetto questa condizione fondamentale, è che tu hai scritto un libro per essere letto a mente, che io per i fatti miei leggerò, perché ho voglia, se tu ci riuscirai, anche io se mi impegnerò a leggerlo con attenzione, e vorrei che queste tue letture, questi tuoi scritti, mi portassero in un mondo fantastico, straordinario. Insomma, intrattenimento, poi alla fine un libro è, ok? Invece noi tradiamo questo patto narrativo perché il libro, che è stato scritto per essere letto a mente, viene letto ad alta voce. E qua già ci troviamo di fronte ad un dilemma, e cioè come andiamo a interpretare un libro letto a mente ad alta voce? Come facciamo noi a prenderci questa responsabilità di dar voce a un qualcosa che l'autore, che è la voce vera del libro, invece ha deciso di essere muta e di vivere soltanto nei nostri pensieri? In quel caso o abbiamo, magari, i progetti più grandi, esperienze e anche possibilità di interagire con l'autore, perché nel 99% dei casi non conosceremo mai l'autore, ci sarà qualcuno che ci affiderà semplicemente questo incarico. E allora dobbiamo essere bravi, noi stessi, ad avere il mindset giusto per poter fare di questa lettura l'interpretazione migliore che noi desidereremmo ascoltare da qualcun altro. Quindi la domanda è, se dovessi essere io l'ascoltatore di questo audiolibro, come mi piacerebbe sentirlo? Come mi piacerebbe che fosse questa voce? A che velocità dovrebbe andare? Che volume dovrebbe avere? Che ritmo? Quando ascolterò questo audiolibro? Ecco, la maggior parte delle persone, il 99%, vabbè, il 90% delle persone ascolta gli audiolibri, i podcast, quando fa qualcos'altro. È vero. Quindi che succede? Che se è la mamma o la signora che è tornata dal lavoro, sfinita, eccetera, però purtroppo poi gli tocca pure passare l'aspirapolvere, accendere la lavastoviglie, queste cose qua, mentre farà questa operazione sentirà con le cuffie probabilmente questo podcast oppure quest'audiolibro. Quindi questa forma di intrattenimento nasce essenzialmente per essere usufruita mentre facciamo altre cose. Ok. E questo significa che già il nostro tipo di lettura deve essere orientato a questo. Se io leggo come se fosse un telegiornale, cioè a quel punto avrebbero ascoltato il telegiornale, no? Che è diverso, però il telegiornale è più facile perché sono notizie brevi. Sì. E dritte. Telegrafiche. Sì, non sento tanti giuri di parole. Invece qua la difficoltà qual è? Che devi anche raccontare una storia. Ok. E quindi questo è il mindset, è come facciamo a raccontare questa storia. Allora, noi che cosa abbiamo fatto? Una volta che ci siamo messi nella condizione psicologica, ci siamo settati da questo punto di vista, quindi allontaniamoci da quello che è il mondo materiale, entriamo in un nostro mondo etereo del narratore. Utilizziamo tutte le nostre corde vibrazionali. Guarda che termini che ti cazzo oggi. Cioè, per corde vibrazionali intendo quelle vibrazioni che ci facevano anche, che sentivamo risuonare di più quando eravamo più piccoli. Ok. Perché quando eravamo piccoli avevamo la voglia e anche il desiderio, la spensieratezza di giocare. Sì, a volte questo ci penso. Cioè, quando leggo i libri, ma è la sera, mi viene. Non so perché. Cioè, quelli sono proprio i libri che a me vengono da lì. Cioè, non so, riesco. Gli altri è più difficile, cioè, devo farlo un po' più meccanicamente. Ebbè, però, quello che tu leggi la sera per i tuoi libri è più propenso. Ok. Perché, come ci siamo già detti tante volte, tu hai una propensione. Sì, sì, no, certo. Ed è una cosa molto bella. Già che ci riesci in maniera istantanea, ottimo. Quindi noi sappiamo già che i libri alla Harry Potter sono già nel tuo. La sfida era fare, invece, una narratrice che vivesse comunque la magia e il gioco, però in maniera più adulta. Eh, sì, sì, no, l'avevamo detto. E quindi, perciò, ma ci sei già riuscita. Uno parte dal fatto di avere una voce più adulta. Il bambino, per esempio, metti, no, mia figlia. Papà, lo sai, non ho andato a scuola e ti ho fatto questo e quell'altro. Il modo in cui i bambini raccontano le cose è molto... Cioè, sono molto... Sono delle raffiche, eccetera. E poi c'hanno dei picchi verso l'alto e verso il basso. Ok. Quindi questo è il loro modo bellissimo di raccontare le cose. Un adulto, purtroppo, che ha perso, diciamo, questa capacità, insomma, di essere genuino. Perché loro ti vomitano letteralmente quello che pensano. Loro, esatto, esatto. Allora, invece, brava. Bravo. Non c'hanno quei freghi di, ah, chissà questo se glielo dico. No, no, no. Ma è meglio che vogliono dire. Esatto, bravo. Quindi noi grandi, a un certo punto, siamo molto più ponderati. Quindi siamo molto più ponderati. Nel parlare questa ponderatezza in un libro dove c'è una narrazione più matura, dobbiamo averci. Ti trovi? Chi vuole. Al tempo stesso, però, non dobbiamo poi incupirci. No, no. Cioè, comunque dobbiamo sfruttare le nostre corde vibrazionali. Se la tua voce, che è una voce giovanile, bella, allegra, di una donna giovane, simpatica e sicuramente gioviale, cioè una persona che tu hai voglia sia di conoscere che di scoprire, ebbene, queste due qualità le devi mettere al servizio del libro. Ok? Quindi è questo che dobbiamo cercare di fare. Partire da qual è il nostro talento naturale. E troppo spesso non ce ne accorgiamo di avercelo. Perciò questi corsi e questi incontri che facciamo sono importanti. Ma quando? Quando dall'altra parte c'è una persona disposta ad accogliere, ad ascoltare e a compiere una missione molto importante, che magari qualcuno avesse fatto con me, tranne pochi casi. Claudio Capone, Sergio Di Giulio, ok. A parte queste grandi personalità del mondo del doppiaggio che ho conosciuto io, la maggior parte delle persone non è interessata a scoprire il talento che è dentro di te. Ma cos'è il talento? Non è che significa per forza vincere X Factor. Io per talento intendo anche questa forma di superpotere, questo qualcosa in più che abbiamo dentro noi stessi, che fa parte della nostra personalità. Allora, ciò in cui mi reputo molto bravo, perché me lo dicono pure, è il fatto di aiutare le persone a trovare il loro superpotere. Quindi, nel tuo caso, abbiamo già detto che la giovialità, il tuo modo di approcciarsi ad un testo, ma in generale partiamo dalle esperienze di vita. Quando io parlo con te sento che sei una persona molto gioviale. Allora, mi aspetto che questa giovialità quantomeno ci sia, forse in maniera più edulcorata, in maniera più ponderata, eccetera, ma la voglio sentire però, perché questo è il tuo superpotere. Se tu, Giulia, invece scatta in te, cosa che non succede, però se dovessi scattare in te l'idea di, ah, ma io però quando leggo non devo essere Giulia perché devo impostare la voce, eccetera, certo, l'impostazione serve per il microfono, serve per le sonorità, ma non devi mai mettere da parte la tua giovialità. Cioè, non devi mai cadere nell'errore opposto di andare a fare una lettura cupa. Perché appena sei cupa, allora stai venendo meno al tuo, stai rinnegando il tuo DNA, che è quello di essere una persona gioviale. Questo cosa significa? Che ci saranno dei libri che per adesso non saranno adatti a farti leggere, ok? Non ho accerto. Hai una voce giovane, brillante, gioviale, giovanile, eccetera, non ti farai leggere, che ti devo dire, Dacia Maraini, quindi farei una cosa un po' più... Quindi abbiamo scelto Chiara Gamberale. Vogliamo dargli un'occhiata? Sì. E vediamo, facciamo questa prova, questo esperimento di lettura espressiva. Allora, condividiamo con te questo libro di Chiara Gamberale, che si chiama Per dieci minuti, che è un libro, secondo me, molto carino da leggere, edito da Feltrinelli, ecco qua. E quindi cosa facciamo? Andiamo a leggere proprio l'inizio, l'incipit, in modo in cui lo leggiamo. È importante perché ci consente di impostare quella che poi da tanto tempo inseguiamo, che è la nostra demo. Giusto? Nelle demo serve sempre comunque dire il titolo, oppure... Guarda, beh sì, noi lo diciamo. Sì, anche perché ci esercitiamo già a fare un po' i narratori, e noi diremo così. Solitamente quando faccio io i libri dico Audible presenta per dieci minuti di Chiara Gamberale, letto da Gianluca Caruso. E tu farai Audible, va bene, Storytel. Audible presenta per dieci minuti di Chiara Gamberale, letto da Giulia Martinelli. Deve essere bello detto, Giulia Martinelli. Allora, facciamo così. Quali sono le posizioni, come si legge? Si legge cercando di rimanere con la schiena dritta. Non ci curviamo, perché comunque dobbiamo lasciare libero il diaframma. Ci schieriamo la voce. Attenzione, ogni volta peggioriamo. Se abbiamo una sorta di raucetine mattutina, vabbè, prendiamoci un po' di latte e caffè e va bene. Però poi, una volta superato ciò, prima di cominciare facciamo un esercizio, per esempio, per riscaldare la voce. E quindi, chiediamo un attimo gli occhi, ci concentriamo su questa parte qua, la parte in maschera, e facciamo un esercizio, non so che ti ricordi, quello di fare questo verso un po' afono. Come si fa? Si mette la lingua in maniera tale che va a occludere la parte della laringe, quindi l'aria vorrebbe uscire verso l'esterno, invece rimane in gola, perché l'intento è di far vibrare proprio qua. Ok? Si. Adesso, diamo per scontato che questi 5-6 minuti li abbiamo già fatti, attenzione alle articolazioni. Diciamo che, siccome stiamo proprio a inizio giornata, non saremmo tanto pronti se non abbiamo fatto questo riscaldamento, ma noi adesso ce ne freghiamo perché stiamo facendo questa prima lettura dopo mesi che non la prendiamo per capire di che si parla. Ok? Ora, però, ci deve essere già un po' la tua esperienza nel leggere questa cosa in maniera che abbia un senso. Cioè, noi, anche se non arriva la vibrazione sempre, quello che deve sempre esserci è la chiarezza. Sì, sì, certo. Cioè, non dobbiamo mai dare la sensazione di non aver capito quello che stiamo leggendo. Certo. E attenzione, perché se non lo capiamo noi, non lo capiscono noi. No, 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 certo, questo sì. Ti trovo? Quindi, primo scopo, capire cosa sto leggendo. Possibilmente, vedere quello che sto leggendo. Certo. Abitavo nella stessa casa di campagna. Sì, sì, no, poi conviene. Ora l'abbiamo letto anche 700. Però questo è un esercizio. Alle porte di Roma. Sì, no, certo. Da sempre. Prima con i miei genitori, poi con una serie di coinquilini, poi con l'uomo che sarebbe diventato mio marito. Ma attenzione, pur sapendo che sti due si lasciano, perché... Sì, no, non lo devo... Sì, sì. È venuta la frego, eh? A noi non ce ne importa niente, comunque è gioiosa la cosa, perché mi viene da pensare che in questi... Alla fine di questo libro, dopo questi dieci minuti, o lei finalmente si mette l'anima in pace che il marito... No, ma ora lo voglio leggere, ti giuro, lo compro. Oppure trova... Oppure ne trovo un altro, dicendo che me ne importa a me e mio marito che ce ne stavano meglio. Oppure di... Oppure si riconquista il marito. Non lo possiamo sapere, perché noi di questi dieci minuti non abbiamo letto manca dieci secondi. Hai capito? Ci mancano ancora... Abbiamo letto le ucchie, l'estetista. Cioè, è normale leggere... Capito? Dieci minuti sono sessanta secondi, per dieci sono già seicento secondi. Noi stiamo a maletto... Un secondo di 599 secondi. Quindi io sono all'ascolto, non ti interrompo. L'unica cosa, se ti interrompo, è perché vedo, molto probabilmente, che stai andando veloce. Rispettiamo la punteggiatura. Già è maggiore. Rispettiamo la punteggiatura. Ci sono le virgore. Sì. Ricordati, se ci sono troppe virgole di seguito, le puoi anche bruciare, cioè alcune le puoi saltare. All'inizio l'avevo visto, tipo stessa casa di Campania, le porte di Roma, c'è un po'... Campania. Attenzione, sai che questa estate ti devo un po' tirar le orecchie, perché sai, sto cominciando a sentire un po' di... di... Cioè, dobbiamo, mi raccomando... No, adesso si torna. Adesso le... Occhio. Si torna alla... Cioè, simpaticissimo il tuo modo di parlare. Però, chi ha la gamberale... No, no, dai, per la sera, quando leggo, non è così. No, lo so. Quando parlo, sì, me ne rendo... Ma te sto a prendere in giro, perché chi ha la gamberale, sta a Roma, ma che fa, un po' toscano. Ok. Vai, dai. Allora. Come vuoi. Vai, piano piano. Divertiamoci. Sì.